Va di scena il primo turno infrasettimanale della Serie C con l'Avellino che non scenderà in campo perché il match contro il Bisceglie è stato rinviato ed allora spazio alle ore 15 al big match tra Ternana e Palermo con il Rosanero che vanno a caccia del riscatto dopo la sconfitta contro il Teramo nella prima giornata e la gara non disputata contro il Potenza domenica scorsa. Alle 15 si giocherà anche Virtus Francavilla-Vibonese, mentre l'altra gara molto interessante della giornata si disputerà alle 18.30 al massimino tra Catania e Juve Stabia, due compagini che si candidano almeno ai nastri di partenza del torneo ad essere protagoniste. Alle 18.30 si giocherà anche Catanzaro-Paganese, tanta curiosità per i calabresi e poi Cavese-Bari con i galletti che dopo il mezzo passo falso in casa con il Teramo sono chiamati ad una prova di forza mentre dopo la prima vittoria in campionato la Tourist sfida la Viterbese di Mr. Maurizzi, reduce dal KO in extremis contro l'Avellino all'Enrico Rocchi. Il posticipo delle 20.45 è tra Potenza che ha riposato praticamente nello scorso turno e Casertana con i campani che si sono rinforzati in attacco grazie agli arrivi di Fedato e Matarese. Dunque si gioca oggi il terzo turno di campionato, il primo infrasettimanale con match molto interessanti.